Sostenere la nascita di nuove imprese in un periodo di crisi. Con questo obiettivo si rinnova il progetto Crea Impresa della CNA di Teramo che intende affiancare l'imprenditore passo dopo passo nella creazione della nuova attività. È un progetto che noi abbiamo fatto più volte, che riproponiamo, modificato ovviamente, arricchito di contenuti e anche di cose nuove per quanto riguarda i finanziamenti. Abbiamo visto che nel corso degli anni molti imprenditori si iscrivono all'artigiano del commercio ma sono tantissimi anche quelli che purtroppo cessano l'attività. Soprattutto nei primi tre anni c'è un altissimo turnover. Noi abbiamo riscontrato che attraverso il progetto che abbiamo fatto in passato Crea Impresa che gli imprenditori che partono con il nostro sostegno, il finanziamento, con il nostro supporto sono più consapevoli e hanno più facilità a rimanere poi sul mercato. Un progetto, quello della CNA, appoggiato dalla Camera di Commercio di Teramo che tramite il suo vice segretario traccia anche un bilancio dello stato delle imprese nel territorio teramano. Progetti di sostegno sia finanziario ma anche di tipo consulenziale alle nuove attività imprenditoriali sono molto importanti in quanto consentono all'impresa di nascere con presupposti più solidi perché purtroppo la mortalità infantile dell'impresa è molto alta. Purtroppo stiamo perdendo parte del nostro sistema imprenditoriale maturo e che pezzi di imprese che hanno fatto la storia della nostra provincia nascono sì in nuove imprese però purtroppo nascono in settori con basse barriere all'entrata in settori a limitato impatto occupazionale ad esempio nei servizi alle persone in modo prevalente nella ristorazione. Quindi si tratterebbe di cercare di attrarre investimenti in attività che diano maggiori prospettive occupazionali e soprattutto che abbiano dei contenuti tecnologici ed innovativi più di spessore. Grazie a tutti.